Allora, come hanno sottolineato tutte le relazioni a partire dall'introduzione di Paolo Ciofi, le prime elezioni a suffraggio universale diretto del Parlamento europeo del 79 diventano per Enrico Berlinguer l'occasione per avviare una riformulazione dell'indirizzo strategico del Partito Comunista Italiano e il problema dell'unificazione politica dell'Europa diventa il terreno elettivo di elaborazione di quella terza via, di quel nuovo socialismo, che costituiscono l'approdo finale della lunga elaborazione del PC di una via democratica al socialismo. Lo si è già detto, l'elezione di Altiero Spinelli, autore insieme a Ernesto Rossi e Eugenio Colorni di quel manifesto di Ventotein che nel pieno del secondo conflitto mondiale lancia l'idea dell'unificazione politica dell'Europa quale coronamento e compimento della rivoluzione antifascista su scala continentale e la nomina di Spinelli, appunto, al vicepresidente del gruppo comunista al Parlamento europeo sta a segnalare, pur con le differenze ricostruite dall'intervento di Ebel come a concorrere alla formulazione di questa nuova prospettiva strategica siano chiamati non solo la tradizione comunista sia pure nella versione innovativa costituita dal comunismo italiano ma anche altri filoni, socialiste e liberal-democratici della cultura di sinistra. In verità, l'adesione del PC alla prospettiva europea era stata, per certi aspetti, tardiva e sofferta giunta a compimento solo alle soglie degli anni 70 Nel clima della guerra fredda, l'integrazione europea era vista, non senza qualche ragione in quegli anni come una mera articolazione del sistema di alleanze che faceva capo agli Stati Uniti in contrapposizione al blocco di paesi raccolti attorno all'Unione Sovietica Fu un merito in particolare di Giorgia Mendola se la conversione europeista del Tucci a differenza che per altri partiti, come abbiamo ascoltato a cominciare da quello francese, giunse a compimento Ma se in Mendola, a mio parere la scelta europeista era prevalentemente ispirata da un'esigenza di legittimazione del PC come forza di governo nell'ambito delle grandi famiglie democratiche dell'Europa occidentale nella riformulazione che Berlinguer ne fa nel passaggio tra gli anni 70 e gli anni 80 appare evidente che essa diventa l'occasione per ripensare i termini e le condizioni della, per dirla con Grammci, rivoluzione in Occidente Del resto il passaggio tra gli anni 70 e gli 80 rappresenta un tornante cruciale della storia mondiale Che un ciclo si fosse chiuso a Berlinguer risultava chiaro a partire proprio dalla vicenda italiana con il fallimento della politica di solidarietà nazionale Determinato anche da passaggi drammatici come l'acquirsi della strategia della tensione nella seconda metà del decennio e l'assassinio e il rapimento di muro Si trattava per Berlinguer e il PC di trovare una via d'uscita da quella condizione di reciproco assedio tra forze della reazione e forze di progresso che avevano segnato gli anni 70 che erano tese sul piano interno e su quello internazionale le une a esorcizzare l'onda lunga delle lotte del 68 le altre invece a metterle a frutto in una prospettiva di radicale rinnovamento Probabilmente a Berlinguer lo stato dei rapporti di forze a livello europeo doveva apparire più favorevole di quando lo fosse diventato quello in Italia dopo il 79 Le principali socialdemocrazie europee alla guida dei rispettivi paesi a cominciare dalla Germania occidentale e dalla Svezia erano impegnati in un rinnovamento delle loro politiche di governo tese a dare una risposta per così dire da sinistra all'esaurimento del compromesso socialdemocratico che aveva segnato i 30 anni gloriosi dell'interrotta espansione post bellica nell'81 vi sarebbe stata la storica vittoria di Mitterani in Francia sulla base del programma comune concordato tra socialisti e comunisti nel corso degli anni 70 in Svezia col piano Meidner ma il PC se ne accorse solo nella seconda metà degli anni 80 soprattutto per merito degli economisti raccolti attorno al Cespe e degli studi sul socialismo europeo di Leonardo Paggi la socialdemocrazia svedese indicava addirittura una via democratica al suramento del primato della proprietà privata nei rapporti di produzione ma è soprattutto sulla funzione nello scenario mondiale dell'Europa che la convergenza nella ricerca di un nuovo socialismo tra i più importanti settori delle socialdemocrazie sembrò poter dare i maggiori frutti Berlinguer insiste molto in quegli anni su un'Europa né antisovietica né anti-americana e condivide con Palma e Brandt l'obiettivo di sostituire la contrapposizione tra est e ovest un nuovo ordine mondiale fondato su un diverso rapporto tra nord e sud del mondo questa prospettiva politica rappresentata da quello che possiamo chiamare il socialismo della terza via o se volete della terza fase come ha argomentato molto acutamente questa mattina Guido Liguori si insaurì molto rapidamente nel giro di pochi anni nel corso della prima metà degli anni 80 noi in Italia siamo portati ad attribuire l'interruzione di quella ricerca all'improvvisa e primatura morte di Berlinguer e anche negli altri paesi europei sembrerebbe che avvenimenti di natura congiunturale chiamiamoli così l'assassinio di Palme il vero e proprio complotto che costrinse Brandt a lasciare la guida del governo in Germania posero fine a quella stagione ma se guardiamo più a fondo i processi reali che caratterizzarono gli anni 80 e anche al fatto che nessuno dei tre principali esponenti di quella stagione del socialismo europeo trovarono i reiti nei rispettivi partiti di cui erano stati leader apparentemente indiscussi è probabile che la ragione va trovata nel fatto che gli effetti della rivoluzione neoliberista e neoconservatrice avviata agli inizi degli anni 70 con la fine della parificazione del valore del dollaro a quello dell'oro avesse già prodotto dei radicali mutamenti che solo il crollo del sistema del socialismo reale del russa avrebbero resi palissi tutti abbiamo sottolineato che quell'elaborazione che vide in Berlin Guerre il protagonista principale è forse la più preziosa eredità che il movimento operaio del secolo scorso lascia al processo di ricostruzione della sinistra europea del nuovo secolo dopo l'impatto devastante che le organizzazioni del movimento operaio europeo hanno avuto con la rivoluzione neoliberista e neoconservatrice e con la lunga crisi che essa ha prodotto da questo punto di vista forse ciò che è maggiormente attuale di quell'elaborazione è l'obiettivo della costruzione di un nuovo ordine mondiale fondato sulla pace e i principi della coesistenza pacifica del ruolo che l'unione politica dell'Europa potrebbe assolvere per realizzare un tale obiettivo a prima vista questo può sembrare un paradosso infatti come si è sottolineato da più parti nella discussione di oggi tutto è cambiato nei 30 anni che ci separano da quell'elaborazione non esiste più il blocco sovietico e si può dire anche dopo il fallimento della guerra infinita dei neoconservatori americani non esiste più anche l'imperialismo americano almeno nelle forme in cui l'abbiamo conosciuto in passato la nuova divisione internazionale del lavoro ha trasformato la radice anche quel sud del mondo a cui pensavano Berlinguer, Palme e Brandt alcuni dei paesi che ne fanno parte sono stati attraversati da un impetuoso e selvaggio sviluppo del capitalismo altri sono sprofondati in una situazione di ancora maggiore miseria ed abbandono la civiltà occidentale frutto del lungo processo di secolarizzazione della cultura europea ha perso il suo primato e deve confrontarsi senza averne appieno elaborato gli strumenti con altre tradizioni e culture insomma non c'è più l'ordine mondiale uscito dalla seconda guerra mondiale ha fallito quello imposto con le armi tentato dai neocons americani e un nuovo ordine stenta ad imporsi nel mondo quindi sembra prevalere l'instabilità e il disordine si tratta di una situazione che su scala allargata somiglia a mio parere più a quella precedente alla vigilia della prima guerra mondiale che altre fasi che hanno caratterizzato la storia successiva del mondo ogni situazione di crisi diventa un pericolo di guerra generalizzata e i fecolai più pericolosi dall'Ucraina al Medio Oriente all'Africa Settentrionale si addensano ai confini dell'Unione Europea finora la miopia delle sue classi dirigenti ha fatto sì che l'Unione fosse un fattore di aggravamento di quei conflitti si pensi alla sconsiderata allargamento a destra dell'Unione che ha messo in pericolo la stessa coesione della Russia post sovietica fattore di aggravamento rispetto ai quali le politiche di austerità che stanno mettendo a repintaglio la sua stessa coesione costituiscono anche un aspetto di quel sintomo di fortezza assediata con cui l'Europa finora ha sostanzialmente reagito alla sfida della globalizzazione dal modo in cui si affronta la crisi della sua moneta la sostanziale giusura al problema dei frofurghi che approdano nel Mediterraneo sulle sue coste meridionali sarebbe quindi l'interesse dell'Europa che si realizzassero situazioni stabili ai suoi confini soprattutto quelle orientali e nel bacino del Mediterraneo l'isperazione di Berlinguerra e del nuovo socialismo europeo di quei primi anni 80 orientata a una politica di pace fondata su un ordine mondiale di coesistenza e cooperazione sarebbe necessaria oggi più che allora e l'Europa potrebbe svolgere un ruolo di primo piano in questa direzione se al suo interno si realizzasse una vera e propria svolta di cui la vittoria di Cirize in Grecia ci auguriamo sia il prologo negli orientamenti politici in quelli della sua opinione pubblica naturalmente come ogni fase storica segnata da quelle che Max Weber chiamava crisi organiche la crisi può produrre esiti opposti ci sarebbe bisogno in ogni paese europeo di una nuova sinistra capace di raccogliere la protesta sociale che cresce nelle società europee come è accaduto in Grecia e potrebbe accadere in Spagna ma non c'è dubbio che questa protesta può essere raccolta anche da una destra populista in espansione come sempre accadere in Francia ed altri paesi dell'Unione questa seconda ipotesi può essere contrastata tuttavia se alla protesta viene indicata una prospettiva che sia anche una speranza l'indicazione netta dell'obiettivo della politica dell'Europa potrebbe costituire questa prospettiva a patto tuttavia che essa sia coniugata con l'indicazione del modello sociale e economico che l'Europa deve assumere nel quadro della nuova divisione internazionale del lavoro prodotta dalla globalizzazione penso che sia necessaria la consapevolezza tra noi che le misure anticicliche alternative alle politiche di austerità per le quali ci stiamo battendo sono solo una premessa sia pure indispensabile e necessaria a una prospettiva più organica fondata su un nuovo modo di concepire produzione, consumo e riproduzione il più delle volte anche a sinistra si pensa al fatto che nel mondo attuale la circolazione monetaria sia 10 volte e più della produzione di beni reali destinati al consumo come una sorta di patologia del capitalismo contemporaneo una malattia da curare come lo sia la crescita delle diseguaglianze nella distribuzione della ricchezza che ne derivano solo di rato si osserva che nei paesi a capitalismo maturo da più di un trentennio il PIL tende a ridursi in maniera costante e che le crisi cicliche mettono in luce una tendenza di più lunga durata sarebbe cioè forse necessario questa è la mia opinione almeno forse rivisitare la marxiana teoria della caduta tendenziale del saggio di profitto depurato ovviamente delle sue implicazioni crolliste e comprendere che il ricorso sempre più massiccio da parte del capitale a quella che per esempio in Italia negli anni 80 Alfredo Reichlin definì l'economia di carta nasce dal fatto che solo essa oggi nei paesi capitalistici di più antico sviluppo garantisce la sua riproduzione mentre contemporaneamente in quelli emergenti può disporre di un potenziale di crescita che tuttora mantiene i tratti di un'accumulazione originaria del processo di accumulazione capitalistica appunto sono queste le ragioni di fondo che da parte di molti in questo convegno che molti in questo convegno hanno sottolineato che rendono attuale l'ispirazione propria dell'ultimo Berlinguer a collocare l'azione politica della sinistra in una prospettiva di superamento dell'ordine sociale esistente ma esattamente in questo che probabilmente l'elaborazione di quegli anni 80 non può più soccorrerci basti per esempio pensare al fatto sottolineato questa mattina dall'intervento di Gianni Ferrara che l'Unione Europea è probabilmente il più grande laboratorio di costruzione di un sistema istituzionale post democratico per capire l'inedita portata dei problemi che abbiamo di fronte c'è bisogno di una nuova teoria della transizione ma che sia all'altezza dei caratteri assunti come mi pare ci ricordava anche Leonora Forenza dal capitalismo dopo la lunga rivoluzione neoconservatrice di questa transizione bisogna anche elaborare tempi, tappe possibili compromessi e soprattutto quel profilo programmatico su cui si è soffermato questa mattina nel suo intervento Bilbao c'è bisogno cioè di liberarsi poi della tendenza ereditata dal marxismo della seconda della terza internazionale a pensare che ci sarà un momento in cui necessariamente il capitalismo sarà travolto dalle sue insanabili contraddizioni l'esperienza storica ha dimostrato infatti che almeno finora il capitalismo ha saputo trovare di volta in volta una sua risposta alla crisi molti di noi hanno così interpretato del resto la categoria di rivoluzione passiva come fu elaborata da Grammci nel pieno di un'altra grande crisi organica e questo deve indurci a ripensare il socialismo come una possibilità piuttosto che come una necessità insomma alla sinistra del ventunesimo secolo tocca ora viaggiare in mar aperto contando soprattutto sui propri mezzi e sulla capacità di misurarsi con l'analisi e la soluzione dei problemi presenti e questo del resto il solo modo per mettere veramente a frutto l'eredità del passato grazie